buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di stefano apiassassina che sono sempre io con questa specie di turbante in testa che non è un turbante è una maglietta e che di cui del quale ho spiegato l'utilizzo nella prima puntata dell'orto di stefano apiassassina quanto tempo è passata da quella puntata un'infinità di tempo un'infinità di tempo e quindi è venuto il momento di assaggiare l'erba brusca l'erba brusca lo dice la parola stessa è brusca e quindi vi fa fare le boccacce almeno a me fa fare le boccacce buona buona l'erba brusca questa è una di quelle cose che mi ha insegnato mio padre l'erba brusca spero che sia anche nella vostra cultura assaggiare l'erba brusca di sicuro anche i miei bambini la assaggiano e per ora non siamo ancora morti spero di non stare insegnando a mangiare qualcosa che è fortemente pericoloso quindi se non siete sicuri non fatelo a casa ma a me piace mi ricordo quando ero piccolo sostanzialmente è una tradizione per me mangiare l'erba brusca anche sputarla davanti alla telecamera e farvi vedere che sputo ma questo si che è proprio un grande video ragazzi rimanete collegati con me vedrete che mamma mia che roba che roba allucinante cosa vedremo oggi nel mio canale cosa vedremo chi lo sa andiamo a vedere cosa vedremo allora oggi vedremo la pacciamatura la pacciamatura con 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 eccola qua con l'erba da sovescio erba oddio con diciamo il sovescio ecco il sovescio che cos'è il sovescio è tutto e niente nel senso che sono una serie di piante che vengono indicate come piante da sovescio perché il sovescio altro non è che una pratica che è la pratica di seminare delle piante che poi si rigirano nella terra quindi la terra si si rigira insieme a queste piante che voi coltivate e serve per nutrire il terreno in maniera naturale guardate un po qua cosa c'è questo qui è un ravanello giapponese detto anche radice di daikon che io però pensavo fosse rafano non conoscendo il rafano e l'ho buttato via sono un deficiente vi prego ditemi che sono un deficiente poi dopo ci ho messo due anni a capire che mi nasceva spontaneo che l'avevo seminato per sbaglio insieme a sti semi qua cioè era contenuto insieme a sti semi ci ho messo due anni a capire che era il la radice di daikon che è buonissima e della quale io non riesco più a fare meno adesso cioè la ricerco in tutti i modi me la me la mangio in mille modi e invece qua in questo filmato qua vi faccio vedere che prendo e la butto via sono veramente un deficiente siete autorizzati a dirmelo a scrivermelo magari no perché non i commenti così non sono graditi né a me né a youtube e detto questo stavo parlando del sovescio quindi il sovescio funziona così voi seminate queste piante qui che crescono molto in fretta queste specie di erbe queste una serie di sono i semi da sovescio li vendono cercate e troverete piante da sovescio semi da sovescio e crescono in fretta e dopo di che in teoria andrebbero ribaltate insieme alla terra c'è chi dice che questa pratica non va bene perché eccetera eccetera è sempre meglio di noi di qua di là di su di giù mille parole insomma ognuno faccia quello che vuole faccia quello che di perdere se le tradizioni sono esistite sempre hanno sempre funzionato non vedo perché adesso nell'era moderna si debba dire che non funzionano più secondo me possono funzionare alla grande io però non lo utilizzerò in quel modo allora quello che sto facendo potrebbe essere una pratica anche per migliorare le aiuole cioè voi potreste piantare queste piante qui e abbatterle come sto facendo io e poi lasciarli lì sull'aiuola per migliorare la terra oppure potreste anche prenderle e usarle come pacciamatura proprio come farò io oggi farò esattamente così guardate che bello squarcio che ho nella felpa a vedere il video in piccolo mi sembrava di avere qualcosa di appiccicato ma poi mi sono reso conto che ho proprio la felpa squarciata ecco state attenti con con il palcetto che è molto pericoloso soprattutto come lo sto usando io che rischiate di darvelo in un ginocchio sicuramente pioveranno commenti che diranno non si usa così il palcetto non si usa così il palcetto non si usa così il palcetto ebbene venite voi a fare il video per favore se non si usa così il palcetto oppure fate voi un video e mi fate vedere come si usa il palcetto al posto di scrivermi che non si usa così il palcetto che così magari lo imparo anch'io nel frattempo che non lo imparo continuo ad utilizzarlo come mandernatura mi suggerisce di fare cioè come mi pare come mi viene in quel momento di fare non sono certo qui a insegnarvi come si usa il palcetto sono qui a non sono qui a insegnare niente lo dico lo ripeto non insegno niente a nessuno vi faccio vedere le cose che faccio io secondo i pensieri che ho io e secondo alcune nozioni che ho io che potrebbero benissimo essere sbagliate per carità a me va benissimo anche che siano sbagliate mi va benissimo che me lo fate notare mi va benissimo tutto 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 quanto però però lasciatemi anche in pace a farle le mie cose ecco magari ci teniamo compagnia mentre io io faccio le mie cose per esempio sto usando il forcone come se fosse un rastrello ma se avesse avuto un rastrello io lo sa sarei stato più comodo meno comodo non è mica detto e lasciando i gambi di queste erbe e di queste piante così così alti forse con il rastrello non sarei stato poi così comodo io di farcone ognuno 2 questo qui lo vedete ai denti molto larghi quindi va bene per per la paglia per il fieno ricorderò sempre sempre il mio diciamo lo zio di mio papà che quando ero piccolo andavo nella sua cascina lui faceva il contadino proprio e inforcava il fieno e faceva queste inforcate gigantesche che io mi sono sempre chiesto e ancora oggi mi chiedo come faceva a inforcare così tanto fieno e spostare così tanto fieno ed era rimarrà per sempre per sempre nei miei ricordi ed è una grande 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 cosa e se volete conoscerlo potete conoscerlo perché gli ho fatto una lunga intervista una lunghissima intervista e che trovate nel mio canale la trovate sia spezzata in quattro cinque parti sia tutto intera che dura dura circa un'ora cinquanta una cosa del genere però però cercatela io vi metto vi metto il link di questa intervista alla fine del video così potete conoscerlo anche voi ok e se vi va di vederlo ovviamente ci vuole il suo tempo e vedere quel filmato ma ne vale la pena e vi dicevi racconta tante cose ecco attenzione andare il bastone sulla telecamera vi racconta tante cose tante tante cose che si facevano una volta che adesso non esistono più ma proprio non esistono non esistono più proprio quei racconti che vi possono fare ancora poche persone al mondo perché perché ormai sono tutte talmente anziane che che forse queste persone qui non ci sono più chi può raccontarvi ancora di cosa si faceva nella stalla di cosa si faceva ecco fino a qualche anno fa ce n'erano molte di più di persone che potevano fare questi racconti adesso cominciano veramente a essere poche 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 e io un po ci sono cresciuto con questi con questi racconti ho ancora benissimo in mente tante cose e quando anche andavo a casa sua e mongeva le mucche e aveva i conigli e insomma ho visto ecco ho appena battuto una pianta di cavolo romano facciamo finta che non sia successo niente rimettiamola in piedi mentre mentre sto facendo mentre ecco sto utilizzando questi che serve quel come come pacciamatura come stavo dicendo perché diciamo che a un certo punto in mancanza di di pacciamatura secca potete tentare la pacciamatura verde che poi tanto si seccherà io l'ho fatto l'ho fatto più volte secondo me funziona funziona bene ed è quello che vi sto facendo vedere in questo momento la pacciamatura verde che poi questi qui siano cavoli romani o può essere qualsiasi qualsiasi altra cosa va bene va bene lo stesso non c'è nessun problema secondo me se se non sapete con cosa pacciamare se non volete comprare la paglia per esempio che magari ve ne vendono una rotoballa intera e tanto costa cara e tutto quanto ecco con una cifra molto bassa potete se avete un po di terra potete seminare queste piante qua vengono su e le tagliate e avete speso molto meno che con la paglia e certo ci vuole spazio ci vuole tempo ci vuole un po di fatica in più però tutto sommato è più colorato e poi l'aiuola che che voi guardate guardate lo squarcio nella felpa con un vero disastro e poi avete il vantaggio che non si vedono più i cavoli e non vedete più niente quindi sono cavoli vostri e se poi non ne avete abbastanza potete racimularne qualcuna di troppo che avete messo per per finire per terminare la vostra opera e la mia opera direi che è terminata ma non è terminato il mio video perché se non volete seminare sta roba qui potete utilizzare un'altra tecnica un'altra tecnica che vi faccio vedere adesso e che è semplicemente quella di lasciar crescere l'erba fino a un certo punto non troppo ecco qua i miei cavoli sono tutti i cavoli miei o cavoli vostri se sono vostri ebbene passiamo al prossimo contributo filmate eccolo qua l'erba ecco questo qui è un camminamento tra una mia aiuola e l'altra no poi non avevo ancora messo le asse di legno e non si capiva dove finiva l'asse di legno dove dove finiva l'aiuola più che altro non l'asse di legno non c'era avevo appena detto certo che spiego bene ecco con con un taglierino che è l'attrezzo più indicato per tagliare l'erba a questo mondo assolutamente direi di no ma io avevo quello e ho usato quello ecco io prendo l'erba la taglio e la metto nei bordi delle mie aiuole dove coltivo per esempio le carote e lì ci sono carote e pastinaca per esempio e le metto giù lì e le uso come paccia matura e non c'è nessun problema anzi proprio nessun problema a patto che voi non facciate venire i semi nell'erba perché se fate venire i semi nell'erba siete fregati perché state seminando l'aiuola con l'erba e poi vi cresce l'erba dappertutto mentre lo scopo è quello di fermare l'erba e basta e buon io direi che il video è finito avete capito che la pacciamatura si può fare anche con l'erba verde io adesso mi tolgo gli stivali la scena poi sarà un po' raccapricciante però mi dispiace però è venuto il momento di togliersi gli stivali di rimettersi le scarpe e di andare a casa mi raccomando c'è di tutto qua dentro c'è la terra c'è qualsiasi cosa e mettiamoci una bella calza bianca su scarpa marrone che è indicata da tutti i fashion come cavolo si dirà sto dicendo parole a caso e quindi siccome sto dicendo parole a caso adesso me ne vado vi saluto se volete iscrivetevi al canale non faccio solo video di orto ricordatevi di faccio anche video di pesca ma adesso me ne vado saltellando saltellando ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti